Racconti per esorcizzare la paura del Covid, ragazzi adulti da tutte le parti d'Italia che hanno raccontato in forma di fiaba la loro visione del virus. Un modo fantastico con personaggi di una favola, per non fermarsi a quello che il coronavirus ha tolto, ma per una ripartenza e una speranza nel futuro. È nato per esorcizzare la paura, la paura del Covid. È nato un momento particolare dove durante la pandemia le persone hanno scritto. Sono arrivati tantissimi racconti e sono delle favole straordinarie. Per i bambini sono stati scritti degli elaborati bellissimi, delle favole, e abbiamo notato che i bambini hanno creato dei personaggi e proprio in questi personaggi hanno esorcizzato la paura e poi hanno trovato sia una morale che un lieto fine. Quindi hanno lasciato tutti un messaggio molto positivo di rinascita. Il mio racconto parla del coronavirus che io ho immaginato come un ragazzo giocoso che ha otto braccia. Ho immaginato che le braccia corrispondano alle proteine spike con cui il virus poi si collega alle cellule. Questo giocoso ragazzo arriva in aereo in Europa e contagia dei bambini che frequentano la scuola elementare, il nonno di questi bambini. E poi a un certo punto incontra all'interno del nonno infettato dal virus, incontra l'anticorpo che ho chiamato Sally, che ho immaginato come una ragazza, anche lei con otto braccia, in modo che le braccia poi si colleghino tra il virus e l'anticorpo per annientare il virus e trasformarlo in un terzo personaggio che ho denominato Molly. Questa è la storia. Poi narra un po' come arriva il virus, come interagisce con i vari personaggi, come incontra Sally all'interno del corpo, come giocando tra di loro, rincorrendosi, il virus viene annientato.